Cari concittadini, ritengo doveroso rivolgermi a voi per spiegare alcune delle motivazioni che hanno costretto l'amministrazione comunale di Silvi a rivedere la tassa sui rifiuti. La causa principale è rappresentata dal fatto che la nostra discarica purtroppo continua a restare chiusa. Noi stiamo lavorando affinché entro la fine di quest'anno la discarica possa essere riaperta. Questo ha comportato il maggiore aumento dei costi di conferimento perché siamo stati costretti a conferire in altre discariche a prezzi raddoppiati e questa è la motivazione che ci ha costretti ad aumentare la tassa. Un'altra motivazione è che alla spesa di conferimento si va ad aggiungere il costo di mantenimento della nostra discarica che ha un costo di gestione elevato e da qui quindi un ulteriore aumento. Noi stiamo lavorando per far sì che il prossimo anno la tassa possa tornare ad essere una tassa accettabile. Io mi rendo conto che non era opportuno, che sicuramente non è uno dei momenti migliori perché tocco con mano quella che è la realtà. Io mi rendo conto, lo dite voi, che ci sono condizioni veramente disperate. Non è più possibile vivere con pensioni di 700 Euro, non è più possibile vivere nemmeno con pensioni di 1000 Euro. Io so che noi come amministrazione dobbiamo impegnarci per cercare di contenere questa tassa che ahimè altrimenti sarebbe destinata ad aumentare. adesso io vi posso promettere che già lo stiamo facendo, stiamo lavorando per far sì che il prossimo anno la tassa diminuisca. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi chiedo di avere fiducia.